Continua la strage di civili in Siria. L'indomani del presunto attacco chimico nella provincia di Idlib, nuovi raid aerei sono stati compiuti nelle prime ore di oggi nel nord-ovest del paese, nell'area colpita ieri. Mentre sale il numero delle vittime, oltre 70, Mosca prende le difese di Damasco. Secondo il Ministero della Difesa russo, la città di Khan Sheikhoun è stata esposta da agenti tossici provenienti da un arsenale ribelle colpito da un bombardamento aereo siriano. Colpiti i depositi di armi e una fabbrica di munizioni, ha detto il generale Konashenko, dove i terroristi erano in procinto di trasportare armi chimiche in Iraq. Parole che smentiscono così l'ipotesi che il regime di Bashar al-Assad abbia volutamente eseguito un attacco chimico. Secondo la Russia, si tratta dunque dello stesso tipo di armi usate dai ribelli ad Aleppo, dove si erano riscontrati sintomi simili a quelli osservati nelle immagini arrivate ieri. In giornata intanto è stato convocato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che ha già fatto sapere che se confermato l'uso di gas tossici, compreso il gas sarin, si tratterebbe di crimine di guerra.